Guardate quest'essere, guardate quest'essere ripugnante, cazzola, il disonorevole cazzola ha affermato poco fa su Lette 4 durante il programma Stasera Italia che i manifestanti che scendono in piazza contro il grip pass devono essere sfamati con il piombo. Questo cesso umano si permette, sto leggendo, vedete, si permette in diretta nazionale di rincitare la violenza armata contro dei manifestanti invitando gli agenti a sparargli contro. Giusto di più Europa poteva essere. Guardatelo qua, guardatelo qua che cattiveria che faccia a 80 anni un ammasso di lardo, oggettivamente. E qui, se non scattano le indagini per istigazioni alla violenza, vuol dire che la magistratura proprio è completamente morta. E poi rimane il popolo, rimane il popolo. Ma questo signore avrà già pensato, avrà già un aereo pronto, un elicottero pronto, presumo. Gli italiani hanno una memoria da elefante. Iscrivetevi al mio canale e alla prossima videopillolina.